Monopoli e Catania non sono state vere e proprie sfide salvezza, tutt'altro. Resta comunque il rammarico, sulle ali dell'entusiasmo dei primi sette punti l'Altamura avrebbe potuto fare di più, soprattutto nel derby perso al San Nicolà, ma l'ora della verità scocca adesso alle porte di tre scontri diretti nel senso letterale del termine. A partire da sabato o da Latina, tappa che chiude la doppia trasferta in cui per gli uomini di Mister Di Donato sarà doveroso portare a casa un risultato che possa quantomeno muovere la classifica. Il Latina penultimo ha pari punti proprio con i Murgiani a quota sette, prima di tornare nello stregato San Nicola contro un'altra squadra in evidente difficoltà, la Juve Next Gen fa Nalido di coda a Ghiotta Shans per mettere in cascina altri punti preziosi. Mini tour salvezza che terminerà con il dolcetto scherzetto di Caserta nella notte infrasettimanale di Halloween. Tre sfide ribadiamo, tre scontri diretti, nell'arco di due punti dagli otto della Casertana ai sei dei giovani bianconeri. La sconfitta di Catania non deve lasciare strascichi, servirà a restare sul pezzo in vista di due settimane assolutamente rilevanti, un possibile punto di svolta per la stagione bianco-rossa. Sfruttarlo significherebbe dare un taglio più tranquillo al percorso almeno in ottica gennaio. Mancarlo aumenterebbe il rischio di rimanere incastrati nelle sabbie mobili di un campionato sempre più imprevedibile ma anche sempre più spietato col passar delle giornate. Il bottino con le poche avversarie di bassa classifica incontrate finora è piuttosto positivo. Il punticino interno con la Cavese ha contribuito al primo importante scatto stagionale, partito tre giorni prima con la vittoria di Taranto che aveva consentito all'Altamura di rinasce dopo il tremendo avvio. Quell'entusiasmo va subito ritrovato, quei punti vanno subito ritrovati. Tre gare che diranno tanto su questa matricola in cerca di identità a partire dal Francioni di Latina. Grazie.